io sono M, così mi chiamo due dei vedi vediamo se arriva e registriamo per Ground Bear, quello sperimentale e poi non siete noi come noi non siamo santi e voi non siete eroi io non faccio il disco e che un bel uomo però avere la possibilità di experimentare è una cosa che togli artistico fare musica qui è una opportunità perché mi meto in contatto con quella che è la parte di fruta della tua sensazione e finire la esperimentazione come una forma per mantenersi fuori la buona sensazione sento la gente che vuole cambiare il mondo sento quella che non vuole più vivere questo la gente non si rende conto che noi siamo il mondo io sono fuoco io sono terra io sono io aria io sono io aria i giorni vorrei fucire su un altro pianeta mandare tutto a fare in culo come un'eremita a guardia l'arri si diventa bravi se entrambe le parti si spartiscono gli appari vi arrestati condannati fratelli detenuti senza colpe reali non sono pezzi rari stronzi che con un mandato fatto in nome dello stato t'assegnano un avvocato condannando il tuo passato c'è chi non si è mai fermato ha lottato c'è chi invece si è addolato ma non è un buon motivo per scagliare l'uno contro l'altro non è la guerra del più scaltro qua tribunali come il fatto oggi c'è un cazzo buttato perché un altro fratello se lo sono portato contestandogli un leato che per quanto mi riguarda è frutto di un accordo tra la malavita e questo cazzo di stato corrotto mentre una madre ha detto piange e dirò un uomo in una cella pensa a tutto questo il cuore è distrutto e voi ditemi se è giusto andiamo dai passare una parrucchiera un uomo in una cella un uomo in una cella ma non è un uomo in una cella Grazie per la visione!